...domani di chi ci partecipa, di chi ci viene, le modalità, l'accessibilità. Poi su questo spazio ci sono tantissime iniziative che ci vengono proposte, ma poi finiscono lì perché io vedo che c'è tanto entusiasmo, c'è chi ci è venuto a proporre di fare un concerto che era anche una bella cosa per trovare risorse, per Sant'Orsa e tutto il resto, poi alla fine ci ha detto che il concerto fa sta tolta se lo volete fare. C'era anche delle idee rispetto a delle sottoscrizioni popolari, io cercherei di essere, rispetto a questo, più concreto, cercando sì di aprire certi spazi con le possibilità che noi abbiamo, delle piccole risorse che abbiamo a disposizione, ma poi dopo di pensare alla possibilità di recupero dell'immobile attraverso anche stralci funzionali, come abbiamo sempre detto, quindi chi fa il project potrebbe, non scusate, la concessione, potrebbe anche dire vai in euro e recupero anche la prima parte, la rimetto prima a disposizione, eccetera, eccetera, e darci anche tempi diversi.